Notte le parole del Signore Gesù Danno continuità ancora alla fede Questa fede fondata nei comandamenti e nelle promesse Perché ci sono persone che solo hanno fede nella promessa di Dio Che venga il tuo regno Ma non hanno la loro fede fondata nei comandamenti Che sia fatta la tua volontà Ma adesso no Che adesso che sia fatta la mia volontà Quindi questa fede non è biblica La fede biblica è la fede che si fondamenta nei comandamenti e nelle promesse La tua Bibbia è divisa in quante parti? In quante parti è divisa la Bibbia? In due? Nell'Antico e nel Nuovo Testamento? Sì o no? No La tua Bibbia è divisa tra comandamenti e promesse Gesù è venuto per adempire i comandamenti e fare in modo che le promesse siano prese in possesso Dal suo popolo così come lui ha detto Nel mondo avrete tribolazione nel versetto 33 nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni Posso leggere? Accompagna Nel mondo avrete tribolazione Ma fatevi coraggio Coraggio Io ho vinto il mondo Ovvero dobbiamo aggiungere la nostra fede Coraggio Coraggio Fatti coraggio Dai Vai con tutto Lotta Investi Credi Non rinunciare ai tuoi diritti Cerca Se devi piangere Piange Se devi alzare un clamore Alza Un clamore Se devi ringraziare Ringrazia Se devi loddare Lode Se devi alzare un clamore Alza un clamore Se devi richiedere Chiedi Se devi sacrificare Sacrifica Se devi decimare Si fedele nella tua decima Se devi perdonare Perdona Andiamo Fatti coraggio Non restare lì Accantonato Non restare lì Facendo vittima Non perdere tempo Dicendo io non posso Non ce l'ho Non lo so Sono debole Nessuno mi ama Nessuno mi aiuta No Non dire così Non pensare così Nel mondo Avrete tribolazione Ma fatevi coraggio Qui ci sono persone Che hanno Un'eccellente fede Ma Non hanno coraggio Perché si scoraggiano subito In chiesa Alza un clamore Prega Onora a Dio Ricerca Medita Lode Ma quando sorgono Le afflizioni Le afflizioni Derivate Dalla vita Dalla persecuzione Dell'opposizione La nostra fede Si scoraggia subito Li perdi L'opportunità E quella principale La principale Di tutte le opportunità Guarda a me Per favore L'opportunità Di gradire A Dio E quando noi Perdiamo Questa opportunità Puoi gradire Tutto il mondo Presidenti Senatori Prefetti Puoi gradire Tutti i clienti Familiari Ma dal momento Che hai sgradito Dio Non hai Più la grazia Di Dio Ma quando hai coraggio La tua fede È coraggiosa È una fede Rivelata È una fede Fondamentata Nei comandamenti Nelle promesse Allora Tu sei provato E approvato Tu non ti Incordadisci Davanti alle sfide Sei audace Nella tua fede Grazie 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 Grazie